La comunicazione orale e la parola si trasferisce molto bene a livello cinematografico, direi, perché il film è in grado di portarci direttamente le parole dei migranti. Etiopia. Iniziò a raccontarla dal rumore di un treno. I maveri comuni. Ancari. Questi recuperi di umanità sono ciò che consentono probabilmente di sperare, di trovare degli spirali per un futuro. Un dovere degli antropologi, provare a ragionare in termini di possibilità. Se uno mi chiede da quali etnii sei, io rispondo che sono Etiopia e basta. Sono un mondo.